Grazie a tutti, oggi abbiamo assistito a un evento di grande cultura e in questo voglio ringraziare l'avvocato Antonio Cuomo, il professore Nella Rume e la professoressa Pietro Paoli ma soprattutto permettetemi di ringraziare la presidente dell'associazione su di storia la mia amica professoressa Lucrezia Trovato perché lei è stata lei l'archefice di tutto questo e si prodica ogni anno per la riuscita di questo mondo, soprattutto per rinnovare i voli giovani di ricordare il grande poeta Mino, il poeta Torquato Tasso. Grazie a tutti, grazie per la vostra presenza. Grazie a tutti, grazie a tutti. 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 No, no. Perché stanno disinando? Eh no, l'hanno portata loro. No, no. 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 No, no.